Ciao a tutti ragazzi, in questo video voglio andare a chiarire quella che è una frase che io ho detto, dicono in tanti, che è una frase risaputa, ovvero la fascia cardio lavora meglio del sensore del battito da polso. Ma perché? Che tecnologie ci sono dietro? Come possiamo fare per farli lavorare meglio? Quindi mi sono informato e ora vi riporto quanto ho scoperto, più qualche consiglio mio personale su come farli performare al meglio. Iniziamo parlando della tecnologia utilizzata dalle fasce cardio. Allora, le fasce cardio innanzitutto ce ne sono davvero tantissime in giro ed esistono principalmente di due tecnologie. La prima tecnologia, che però forse non è la più comune, però ve la cito, è quella che utilizza i sensori con luce pulsata, come quelle che si utilizzano appunto sugli sport watch. È meno conosciuta, meno utilizzata, però esiste e comunque dato che utilizza la stessa tecnologia degli sport watch ve ne parlo dopo. La tecnologia invece più utilizzata, che è quella anche più affidabile, che dà anche il dato migliore, è quella che utilizza gli elettrodi. Noi cosa abbiamo? Su una fascia cardio troviamo due elettrodi, di solito, uno da una parte e uno dall'altra, che vanno a captare quelle che sono le differenze di potenziale ogni volta che il nostro cuore emette un battito. Mi spiego, quando il cuore emette un battito va comunque a generare una piccola elettricità, c'è una differenza di potenziale e questi elettrodi riescono a captare questa elettricità e quindi riescono a percepire ogni singolo battito del cuore. Sono molto molto affidabili, pensate che la stessa tecnologia viene utilizzata in ambito medico, banalmente quando facciamo un elettrocardiogramma e tanti altri esami, quindi in pratica cosa succede? Che la stessa tecnologia utilizzata in ambito medico è stata riportata su queste fasce cardio e messa a disposizione anche degli amatori. È una tecnologia ormai, possiamo dire, anche vecchia perché comunque c'è dagli anni 70 praticamente, anche forse un po' prima in ambito medico. Le fasce cardio più o meno sono arrivate invece negli anni 80, quindi è una tecnologia si vecchia ma sempre attuale perché comunque al momento è ancora la migliore. Passiamo poi invece alla luce pulsata dietro ai nostri cardiofrequenzimetri. I nostri sport watch ormai quasi tutti ce l'hanno. Da tanti anni, anche qua la troviamo, ma come funziona? Il nostro sport watch va a emettere una luce, una luce con un'intensità molto alta, tanto che noi vediamo di solito una luce continua, non riusciamo a vedere i vari frammenti di ogni singola emissione di luce, talmente è ravvicinata e va a captare quello che è la differenza di pressione del sangue, ovvero quando il sangue viene pompato ne passa di più in una vena, quando non viene pompato ne passa di meno. Quindi andando a captare questa differenza nel momento in cui naturalmente passa più sangue perché c'è stato il battito. E quando l'orologio va a emettere la luce, la luce naturalmente gli torna indietro perché attraverso il sangue viene riflessa una cosa o l'altra e gli torna indietro e lui va a captare quanta luce gli è tornata indietro naturalmente. Questo però dovendo emettere una luce e aspettarne la risposta, quello che torna, non è così efficace perché c'è un tempo di latenza e soprattutto nel battito cardiaco preciso a secondo non lo sarà mai così preciso rispetto a una fascia cardio proprio perché c'è una latenza di risposta. Ultimamente sto notando che con gli ultimi sport watch si avvicina sempre di più il sensore di battito cardiaco sull'orologio alla fascia cardio. Però non siamo ancora lì, c'è ancora da lavorare perché comunque c'è ancora un errore all'incirca di 3-5 battiti nei migliori dei casi. In altri casi anche molto di più e quindi il sensore risulterrebbe essere sempre meno accurato. Detto ciò, ora che sappiamo come funzionano, vediamo anche come utilizzarli, come utilizzarli al meglio. Iniziamo dalla fascia cardio. Quello che vi consiglio sempre innanzitutto di andare a leggere quelle che sono le specifiche del produttore quando l'andate a comprare. Ma geneticalmente basta prima di indossarla andare a umidificare gli elettrodi in modo tale da farli aderire meglio alla pelle così che anche la pelle con un elettrodo un pochino umido va ad ammorbidirsi grazie all'acqua. Oppure se non volete bagnare gli elettrodi potete fare il procedimento di andare a bagnare la vostra pelle dove andranno apposta gli elettrodi. A quel punto lì poi basta semplicemente andare a indossarla. Dove la si indossa? Appena sotto i pettorali per intenderci. Non va apposta né sopra né sotto. Sotto sarebbe troppo bassa, troppo lontana dal cuore e quindi gli elettrodi avrebbero più difficoltà a captare quella che è la differenza di potenziale proprio per la lontananza dal cuore. Più in alto no perché nel momento in cui noi andiamo a correre o a fare sport e via dicendo più in alto comunque tende sempre a traballare un po'. Comunque potrebbe anche dar fastidio perché se l'abbiamo troppo in alto può andare a chiudere anche quella che è la cassa toracica per respirare. Quindi diciamo che la posizione migliore è quella sotto il pettorale. E poi una cosa molto molto importante mi raccomando fate manutenzione alla vostra fascia cardio quando la utilizzate. Pulitela sempre. Dopo 8 allenamenti, di solito è scritto sopra, per esempio, su questa fascia cardio è scritto dopo 7 allenamenti all'incirca va pulita. Anche qua vi guardate le informazioni date dal produttore e seguitele in modo tale che così anche la vostra fascia cardio duri più a lungo. Passando invece al sensore di battito da polso. Allora qui le variabili in gioco sono veramente veramente tante. Come sappiamo i problemi possono essere tanti, troppi peli sul braccio, un colore della pelle troppo scuro, un tatuaggio nel punto in cui andiamo ad applicare il nostro orologio. Quindi per farlo funzionare al meglio innanzitutto non dovremmo avere peli nel punto in cui andiamo a porre l'orologio. Dovremmo avere una carnagione chiara, abbastanza chiara, però anche lì non possiamo farci nulla purtroppo se madre natura ci ha notato di una carnagione un pochino più scura. Dovremmo innanzitutto come posizionamento andare a porlo, non dove ci sta l'osso qua del polso, ma un pochino più sopra in modo tale che questo vada a stringersi bene e poi appunto deve essere ben stretto, non si deve muovere. L'ideale sarebbe che non entri luce sotto il sensore in modo tale che l'unica luce che lui vada a rilevare sia quella da lui stesso messa per capire il battito. Ci sono tantissime variabili in gioco, molte delle quali purtroppo non possiamo neanche andare a deciderle noi. Quindi il mio consiglio è provateli, confrontateli rispetto a una fascia cardio e cercate di capire se su di voi funzionano oppure no. Comunque in generale se volete avere una precisione attorno al 100% di quella che è la vostra frequenza cardiaca, per ogni istante andate di fascia cardio e andate sul sicuro. Se invece non vi interessa così tanto il valore per ogni secondo, magari vi interessa avere giusto un valore generico, giusto per dargli un'occhiata, non siete così maniaci del dato, beh allora un sensore a polso può anche andare bene senza andare a investire soldi in una fascia cardio. Perciò ragazzi la speranza di avervi aiutato a scegliere quali dei due dispositivi sia meglio per voi, io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!